Come posare un pavimento in legno esterno su travetti. Livello di difficoltà, due martelli. Con un pavimento in legno possiamo valorizzare al massimo le nostre terrazze e rendere più funzionali ed accoglienti i nostri spazi esterni. Abbiamo bisogno di travetti, tasselli a battere, listoni di legno, spessori e viti. Dobbiamo avere a portata di mano metro, livella a bolla, squadra, riga da muratore, martello, morsetto, banco da lavoro pieghevole, matita, sega circolare, trapano avvitatore e cordicella per tracciature. Per garantire il corretto deflusso dell'acqua è preferibile disporre i travetti della struttura in modo perpendicolare rispetto alla casa e posare i listoni nell'altro senso. Ma se preferiamo possiamo anche invertire i sensi di posa, basta che inseriamo degli spessori sotto i travetti per favorire il deflusso dell'acqua. In entrambi i casi lasciamo uno spazio di 40 cm tra un travetto e l'altro. Ogni 70 cm circa i travetti devono essere fissati al pavimento. Per ogni punto di fissaggio dobbiamo avere predisposto un foro passante, realizzato con una punta da trapano per legno e poi fresato, per incassare la testa della vite. Disponiamo il travetto vicino al bordo della terrazza e lasciamo alla fine uno spazio di dilatazione, mettendo uno spessore da 10-15 mm contro il muro. Con il trapano con punta per cemento, foriamo il sottofondo in corrispondenza di ogni foro passando attraverso il travetto. Inseriamo poi tasselli a battere utilizzando il martello. Continuiamo con il travetto successivo, lasciando uno spazio di 40 cm. Mentre procediamo, togliamo gli spessori contro il muro e controlliamo che i travetti siano tutti allo stesso livello. Se in alcuni punti il sottofondo presenti irregolarità, possiamo compensare con spessori più sottili da posizionare sotto il travetto di riferimento. I listoni si fissano in modo perpendicolare rispetto ai travetti. Scegliamo un lato della terrazza e cominciamo dall'angolo posizionando degli spessori di dilatazione da 10 mm contro il muro. L'altra estremità del listone deve arrivare a metà travetto. Con la matita tracciamo una tacchetta, riportiamola con la squadra, poi seguiamo. Posiamo il primo listone e fissiamolo utilizzando due viti in corrispondenza di ogni travetto situati a 25-30 mm dal bordo. Prima di avvitare ogni vite, realizziamo un foro passante, fresiamo per incassare la testa della vite e poi avvitiamo. Completiamo la prima fila con un pezzo di listone. Lasciamo uno spazio di 2 mm tra un listone e l'altro, misuriamo la distanza mancante per raggiungere il bordo della terrazza e aggiungiamo 4 cm. Questa sporgenza permetterà poi di realizzare il taglio finale a filo della terrazza. Per la fila successiva posizioniamo uno spessore da 10 mm contro il muro e da 10 mm tra i listoni per lasciare uno spazio di dilatazione. Continuiamo allo stesso modo, fila per fila. Sul bordo tracciamo la linea di taglio dei listoni con la cordicella per marcature. Con la sega circolare tagliamo la parte sporgente dei listoni. Per una questione estetica possiamo nascondere la struttura portante della terrazza con un listone avvitato sui travetti. Il classico pino impregnato o i legni esotici di grande resistenza e durezza oppure la robustezza e la lunga durata del composite. Ecco vari modi per rendere unica la nostra terrazza a seconda dei gusti e delle esigenze.